Benvenuti a Pixel, due californiani sfidano gli abissi tuffando a 100 metri di profondità droni dotati di telecamere. Un nuovo traguardo nell'esplorazione del mondo sottomarino. Era il 1956 quando Jacques Cousteau regalò al mondo una visione diversa del mare. Il suo The Silent World, il mondo del silenzio, svelò quello che veniva celato negli abissi. Quasi 60 anni dopo due ragazzi californiani potrebbero aprire un nuovo capitolo nell'esplorazione degli oceani. Eric Stackpole e David Lang hanno infatti progettato e realizzato una sorta di drone sottomarino, un sommergibile robotizzato dotato di telecamera in grado di realizzare le riprese che state vedendo e che ci sono state gentilmente concesse. Si chiama Open Rove, acronimo di Remotely Operated Vehicle, ossia veicolo comandato a distanza. È uno strumento che permette a chi è interessato al mondo sottomarino di esplorarlo, dicono gli sviluppatori. Delle dimensioni di un tostapane può arrivare a 100 metri di profondità, costa 849 dollari ed è completamente open source e open hardware, permette quindi accesso a chiunque voglia contribuire a migliorarlo. E la comunità ha contribuito non solo nel design ma anche dal punto di vista finanziario. Il progetto lanciato sul noto sito Kickstarter ha infatti raccolto quasi 112 mila dollari contro la richiesta iniziale di 20 mila. Allergie e rischi per la salute. Una nuova ricerca svela tutti i pericoli legato all'uso di alcuni dispositivi tecnologici. Per chi vuole comprare uno smartphone di nuova generazione con buone prestazioni, tra le varie marche sul mercato ora si dovrà fare conti anche con la propria salute. Prestando molta attenzione agli apparecchi di importazione parallela provenienti dall'estremo oriente e talora non certificati, qui non parliamo di onde elettromagnetiche, ma di vere e proprie allergie, in particolare quelle al nickel e al cobalto. Secondo un recente studio è emerso che l'uso di alcuni smartphone provocherebbe allergie a soggetti sensibili a nickel e cobalto. Un terzo di questi dispositivi conterebbe almeno uno dei due allergeni. Beh sì, esistono degli studi americani che riportano che dipende dal tipo di smartphone e quindi qui la cosa diventa particolarmente importante perché esistono alcuni che hanno un contenuto di nickel e di cobalto che può determinare una sensibilizzazione e soprattutto delle manifestazioni cliniche. E' quindi particolarmente importante o ricorrere a delle coperture, classicamente, oppure saper scegliere correttamente quello che questo non ha. Un giornale personalizzato dove ognuno può selezionare, condividere e pubblicare la sua raccolta di articoli. Il tutto grazie al web. Portami le notizie per data e mettimili abbastanza rilevanti. Si chiama Italia dal latino et alia, cioè e altri, un modo per dire che oltre all'autore ci sono altre fonti che trattano lo stesso argomento. Ed è il principio su cui si basa la piattaforma web per creare giornali su misura. Chiunque può costruire un proprio giornale definendo gli argomenti di interesse, le fonti che preferisce e tutti i contenuti che preferisce leggere. Non un semplice aggregatore di notizie, ma uno strumento per selezionare contenuti specifici in base a rilevanza o parole chiare. Poi diventa anche un modo con cui tu scopri delle notizie che magari non avresti mai lette. Italia è anche una piattaforma dove i giornalisti possono pubblicare e guadagnare con i propri articoli. I pezzi acquistati da editori o semplicemente letti dagli utenti verranno retribuiti in crediti Italia. Una volta raggiunta una soglia, i soldi virtuali, assicurano gli ideatori della piattaforma, si trasformeranno in soldi reali che arriveranno direttamente sul conto corrente del reporter. Veniteci a trovare su TG3 Tech sul sito del tg3.rai.it e scriveteci a pixi al chiocciolarai.it